Benvenuti ragazze, benvenuti in vostrissimo video, io sono oggi con un ospite che non vedete da tanto, presentati E dopo anni di promesse che vi ho fatto, ecco la Village Vanilla Ovviamente vi abbiamo, scusi, li abbiamo tolto all'inizio perché era inutile Noi vi vogliamo bene, non vi vogliamo far vedere tutte le cose brutte che c'è, ok? C'è tipo prendere la legna, allora iniziamo a scavare l'aria Ovviamente noi cosa stiamo facendo, facciamo tipo 50 un'ora di registrazione e poi riassumiamo con l'editing O meglio riassumo Anzi, e mi sono dimenticato una cosa, vedrete anche la sigla che voi avrete già visto però ve lo dico lo stesso No, ne ho 41 C'è la sua torcia Oh, se? Hai un mouse di riserva? Cambia, come lo facciamo a ricaricare? Ok, ma devi essere più eccitato che non vuoi essere sul mio video? Quanto sei di profondità? Non so se più amati ci aggiungeremo shaders Allora, ci dobbiamo fare dei letti però Mi devo fare un picconcello, anzi, me ne faccio ben due Che bello giocare a Minecraft, io, va vero? Ok, anch'io Devo trovare del ferro, ovviamente ci faremo due casse separate Ricordati di premere il fai 3 a quando, se vuoi vedere a che blocchi stai La caverna, il legge, ho trovato una caverna gigante, vieni da me E non lo prendo, è inutile E la caverna della 1.19 Sì, non lo so, ci voglio provare Però è parecchio buio È un canyon, è tipo un canyon È gigante No, è anche gigantemente pieno di mostri Un sacco di lagno Uh, posso anche trovare il diamante Anzi io È una mano Eh Do Riesce a dipendere le cose Ok, stiamo capendo di fare il banco No Ah, mi è esplorso un creeper in faccia, sono quasi morto Lo scheletro Lo scheletro ora no Quinto dal server C'è uno scheletro quittato dal server Ci sono due scheletri Disconnessa Puoi venirmi, niente Piano di scheletro, piano di scheletro Se ce la faccio è un miracolo, se ce la faccio è un miracolo No, voi non avete visto niente Sono solo cliccato dal server Non è che ho un banco del mouse No No, scheletri No, no, no Mi sono più Sì, vado a riprendermi la cosa Ok, ho preso la spada Cosa è che sta? Scusi, ci sono solo 5 zombie Un baby zombie e uno scheletro Capito? Eh, sì Ci sono 6 zombie Un baby zombie e uno scheletro Mi capo Ma Il jumpscare del mini zombie Puoi venire, Ilario Eh no, è interno a prendere il mouse Proviamo Ma Il mini zombie lo spado in ferro Ok, mi sono salvato Sì Sì, anche Puoi farsi venire da me Eh, guarda Ci sono un sacco di zombie No, se non Non riesco a riprendere la spada La cosa più importante Mi serve La spada Il mini zombie Non so se è notata La spada in ferro Come risolviamo questa questione? Come risolviamo questa questione? Tranquilla Ho utilizzato tutti Quasi tutti No, ho riprendito io la cosa Ho ripreso io Ho ripreso quasi tutte le cose No, le cose qui dentro sono desponate No, le cose qui dentro sono desponate Però Ed è sponato Abbiamo perso mezzo stack di pietra Ecco le tue cose Allora Allora Questo 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 Ti è sfonga No, le cose sono spostasse Che buttò Questa è un po' di film Mi hanno fatto qui È un po' di film Questa è un po' di film E' un po' di film E' un po' di film La fine è un po' di film E' un po' di film